Bisogna viaggiare per oltre 1500 chilometri per arrivare da Sesto Fiorentino a Leopoli in Ucraina. Un viaggio intrapreso per sette volte dalla Croce Viola del centro toscano. Il racconto dell'ultimo è divenuto un documentario, Road to Leopoli, firmato dal giornalista e regista Alessio Poggioni, presentato a Pistoia a Palazzo di Giano. Abbiamo trovato una situazione che è quella che viene raccontata ovviamente dai telegiornali, da tutte le cronache di tutto il mondo, ma noi siamo andati a cercare anche qualcos'altro, siamo andati a raccontare anche le storie di chi sta più lontano dal fronte, ma non per questo non ha avuto un impatto forte con la guerra. Sono territori che hanno dato in termini di vite umane e anche e soprattutto in termini di accoglienza moltissimo. Viaggi intrapresi per portare aiuti alle popolazioni colpite dalla guerra, ma anche cibo, medicinali, dispositivi di primo soccorso. Dall'inizio della guerra abbiamo consegnato quasi 50 tonnellate di materiale, abbiamo percorso quasi 40.000 chilometri con i mezzi ed è il momento di poterlo raccontare. Ecco perché è nato questo reportage che stiamo portando a giro nella Toscana per cercare di tenere alta l'attenzione su un evento che col passare del tempo inevitabilmente sta perdendo interesse mediatico. Tra i partecipanti al viaggio anche una delegazione della Regione Toscana che per l'occasione ha portato con sé nel paese in guerra aiuti per l'ospedale pediatrico di Leopoli, offerti dal mayor di Firenze. È stato toccante quella mattina, in particolare tutto il viaggio, ma quella mattina anche, come dire, incontrare i genitori dei bambini che erano ricoverati lì in ospedale, mi sono stati presentati dal direttore, da alcuni chirurghi, da alcune infermiere. È stato davvero molto, molto emozionante. Un viaggio nel nome della solidarietà che ha avuto anche un volto pistoiese, quello di due imprenditori, Alessio Gai e Matteo Dolfi, della IFLOD, che hanno comprato, risistemato ed attrezzato un'ambulanza che è stata donata all'arrivo a Leopoli. È stato abbastanza toccante portargliela e quando il Comune ci ha ringraziato, sono solo quelle cose che si vivano lì e si capisce solo in quel momento quel poco che si fa quanto tanto venga apprezzato.